Dovrà essere approvato durante il Consiglio Comunale che si terrà domani a Nocera Inferiore il nuovo piano di protezione civile. Il Comune ha ricevuto dalla Regione Campania un finanziamento di circa 60.000 euro per l'aggiornamento dell'importante strumento indispensabile per fronteggiare le emergenze in aree soggette a rischio di calamità naturali. Il piano, aggiornato l'ultima volta nel 2013, prevede un nuovo numero di telefono per le emergenze e nuove aree a rischio indicate dall'autorità di Bacino. Previsto anche il potenziamento della sala operativa del Comune attraverso l'acquisto di nuovi computer. Verrà inoltre ampliato il parco mezzi con una vettura 4x4 ed un'idrovora. E ancora un sistema di allerta, un gruppo elettrogeno e nuovi pannelli che indicano le zone sicure in città e come comportarsi in caso di emergenza. Diversi rischi presi in considerazione, da quello idrogeologico che si concentra nella zona pedemontana, rischio eruzione del Vesuvio legato anche all'accumulo di cenere e lapilli sui tetti. In questo caso la procedura da adottare è quella conosciuta dai nostri nonni, ovvero spalare immediatamente i solai delle case per liberarli del pesante accumulo di materiale eruttivo. Previsto anche un piano di azione in occasione di grandi eventi che prevedono l'assemblamento di migliaia di persone.